Supertronic vince alla CUNAP Partner Conference il premio Best Value Added Certified Partner 2017 come Gold Partner. Commentiamo questo premio? Parto con una premessa. Supertronic è una società che intanto è il primo anno che prendiamo il premio e quindi siamo giovani di partnership con CUNAP. Supertronic si occupa di progetti molto sofisticati, tecnologici soprattutto per aziende di fascia medio alta. La ricerca di un partner per Supertronic è fondamentale perché viviamo facendo questo genere di progetti e per un brand lavorare con noi vuol dire superare delle prove di certificazione molto di qualità, molto impegnative. CUNAP ha superato queste prove. Il premio di oggi secondo me aiuta sia noi per farci capire che abbiamo fatto una scelta corretta nello scegliere CUNAP e sia CUNAP perché ha fatto a sua volta una scelta corretta per aver scelto Supertronic come partner. uso la parola partner e non fornitore perché è una parola che mi dà fastidio. Noi andando sul mercato facendo progetti tecnologici abbiamo bisogno di un'azienda che ci segua, che ci aiuti a portare a termine i nostri progetti soprattutto perché i clienti che seguiamo sono clienti di fascia molto alta, di fascia enterprise. Lei già mi ha spiegato quindi i razionali alla base di questa scelta del vendor, quindi questa relazione di partnership forte, di qualità. Proviamo a vedere magari qualche ambito applicativo dove vi vede particolarmente coinvolti con l'offerta di CUNAP. Partiamo da questo presupposto. Oggi l'informazione è diventata vitale per tutte le aziende. Oggi nell'informazione troviamo i dipendenti dell'azienda, troviamo i clienti, troviamo i social network. Una soluzione come quella di CUNAP aiuta a concentrare tutte queste informazioni che arrivano da ogni serie di device diversi, arrivano da ogni serie di dispositivi e in un momento come questo l'informazione è importante che sia anche sicura e noi abbiamo trovato nelle soluzioni di CUNAP anche la sicurezza del dato, oltre che la velocità, la capacità poi, diciamo, di espandersi e la capacità, diciamo, di una velocità che necessita, diciamo, sempre di più, più passa il tempo e più crescono le informazioni. Aggiungerei solo una parola, diciamo, se siamo ancora a un secondo di tempo, per dire che cosa ci piace di CUNAP come azienda. Ci piace che è dinamica, ci piace che è giovane e veloce, che quando abbiamo una necessità risponde velocemente ed è abituata ad operare, diciamo, con un'attività in H24, che è sostanzialmente quello che chiedono i nostri clienti. Quindi, diciamo, abbiamo scelto CUNAP da forse un anno e mezzo, spero che le cose continuino ad andare bene così come sono andate finora, insomma. iscriviti al canale